2 sono i bambini piano che sono i bambini io mi butto il flying elbow smash dimmi lui ci consegna però lasciate fuori i bambini figura 4 anche facciamolo tutti sopra Mirko vai vai tutti sopra tutti sopra tutti sopra vai Chiara vieni tutti sopra Mirko vieni 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 vai vai Gabriele ma che tu vai Gabriele Ah no, hai visto che prima ha lasciato uscire una cosa per prendere più giurelli Cosa fa? Cosa fa? Mi dare guardaroma Non riesco più